L'evento importante, anche se si parla di Avis e giustamente lo slogan che è fuori, grazie ai nostri 2.500 associati, già un qualcosa dalla quale si parte benissimo, Sassura. Direi di sì, innanzitutto è un orgoglio per la città perché avere un numero così importante di soci significa che c'è una città che è sensibile alla donazione e questo è un fatto fondamentale perché dobbiamo colmare anche delle lacune che magari si vengono a creare in altre parti della regione. San Benedetto riesce a fare questo, quindi anche a dare questo apporto in più a sostegno degli altri territori. È un orgoglio personale perché anch'io sono un socio dell'Avis e oggi verrò premiato, quindi per me è un grande vanto ed è un grande orgoglio. Devo dire che questa presidenza, la presidenza di Lorenzetti, è molto attenta in generale a quelle che è le attività da portare avanti, a beneficio della comunità. Quindi è un qualcosa che trova poi un riscontro effettivo nella città e viene in mente ad esempio il contributo che l'Avis ha dato per la pista di atterraggio dell'eli soccorso, dell'eli ambulanza. Ha dato un contributo importante proprio per le realizzazioni di questo intervento. Io direi che andare avanti così significa ovviamente far crescere oltre che l'associazione anche la città. Per noi e per me in modo particolare in questo mio primo anno di mandato come presidente provinciale è un onore essere presente oggi qui, comunque sia a mettere anche noi come provinciale la firma a questo evento molto importante perché comunque la comunale di San Benedetto del Tronto è la prima delle 14 Avis a siglare appunto la personalità giuridica quindi per noi è un importante traguardo. Oggi poi c'è un'assemblea davvero molto gremita, molto partecipata e questo sicuramente ci rende orgogliosi di far parte di una realtà che a livello nazionale è una delle prime realtà presenti sull'ambito diciamo sociale e sanitario. Oggi i nostri donatori dell'area di San Benedetto stanno avendo i premi come donatori in questi anni che hanno donato quindi per noi è altrettanto importante essere presenti oggi qui. Sono tutti i donatori che hanno dato diciamo tonnellate di sangue per gli ammalati e per le persone che soffrono. Questo sia un esempio per i giovani, per i ragazzi perché il sangue è una risorsa che non è possibile costruire chimicamente e grazie a queste centinaia, anzi migliaia perché siamo arrivati a 2.501 donatori possiamo dare continuità di vita a tante persone che soffrono. Anche perché l'ha ribadito il Presidente che San Benedetto ha una base importante per l'Avis provvigiale. Sì, San Benedetto del Tronto è in controtendenza già da alcuni anni a livello regionale quando i dati sono a meno. San Benedetto è una città solidale, San Benedetto e il comprensorio sono persone che amano il prossimo, amano questa comunità e per questo che abbiamo spirito di collaborazione e di unità tutti insieme. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.